Salve a tutti ragazzi, oggi per Transformers Italia vediamo il secondo membro del Dino King, ovvero Dino Ni, quindi Dino 2. In questo caso, come lo vedete già dalla forma mostrolato, il suo Shell Pretender dovrebbe essere uno pterodattile in questa versione, mentre praticamente nella versione Mostructor lui ovviamente non ha questi colori ma è giallo-rosso e il suo Pretender sarebbe una specie di mostrolato pipistrelloide. Anche qui lui viene accompagnato da una pistola che si può unire con la pistola di Dino Ichi, non mi ricordo se è la parte in alto, se si incastra qui in alto, comunque da qualche parte si incastra, se si incastra qui in basso. Comunque si potevano unire, ora non mi chiedete come, dove, quando, che non me lo ricordo. Per ora le mettiamo fuori. Dimensioni, lui ovviamente è più piccolo del suo compagno di reparto, non così più piccolo. Questo è più leggero, ovviamente loro costano anche un po' di meno. Vediamo a confronto veloce con un membro del McToys Junt, in questo caso il Bulldozer. E vediamo, lui è leggermente più piccolo, anche un po' meno massa. Stiamo parlando comunque sempre di una classe, di un deluxe, un deluxe piccino. Anche lui qua, tutte le articolazioni, ovviamente testa e collo, gomi di braccia, polso, bacino, anche, e piedi sempre su ball joint per una massima posabilità. Le ali possono rimanere in questa maniera reclinata, oppure le possiamo aprire e mettiamo, metterlo, le ali ovviamente sono su racket joint. Possiamo metterlo in pose un po' più, un po' più dinamiche, in pose volanti, se abbiamo uno stand, insomma. Ma, diciamo, è quasi un piacere, come dico sempre, è quasi un piacere giocare con questi Transformers quando sono molto belli e però hanno una trasformazione che è molto, molto, molto semplice, insomma. Senza troppi pannelli, cose complicate che poi non lo fanno posare. Trasformazione effettivamente semplice, vediamo anche lui, che non è del tutto un, quando dico trasformazione semplice, ovviamente non è un dispregiativo. Anzi, sono ottimi personaggi che però riprendono bene quello che doveva essere il combiner o i Transformer a cui si ispirano, che erano fondamentalmente dei basic che si trasformavano con due passaggi. Veniamo alla trasformazione, la parte superiore del corpo è abbastanza semplice, dobbiamo, ovviamente, rinseriamo i mani all'interno, alziamo il gomito, scusate, alziamo la testa, troviamo subito la testa e le braccia le ruotiamo di 90 gradi e le dobbiamo incastrare questo perno all'interno con questo perno qui, che c'è dietro al petto. Ok, ecco qua. Diciamo, possiamo dire che la parte superiore della trasformazione è finita. Scusate. E, mentre invece, diciamo, quella che dà un po' più di soddisfazione è la parte delle gambe. La parte delle gambe, qui ci sono lì, gli artigli, si alzano e si allargano. Per ora, in questo caso, si sfilano. E li apriamo. Alziamo gli artigli e lo apriamo. Ops, scusate, è subal joint, quindi intanto può saltare. Chiudiamo qua le clip dei piedi. E il piede lo schiacciamo in avanti finché non si incastra sul perno. Ora, richiudiamo su se stessi le gambe. Allora, per la trasformazione delle gambe abbiamo due varianti. Una variante ufficiale e una variante meno ufficiale. La variante ufficiale è quella di prendere le gambe a questo punto, ruotarle di 90 gradi e incastrarle all'interno di questi perni, che sono qui sotto al bacino. L'operazione è che i perni sono un po' duri, quindi uno rischia sempre di farli saltare, farli uscire. Ho sempre l'impressione che salti la ball joint, però non salta mai. Quindi, a questo punto, ruotiamo un'altra volta le gambe in questa maniera e giriamo i piedi. Anche qui, ruotiamo la gamba, così, la incastriamo nel perno e ruotiamo i piedi. Fatto questo, semplicemente apriamo qui queste ginocchiere che dovrebbero scimmiottare una sorta di coda e ruotiamo l'intero corpo, così, di 90 gradi. Alla fine, quello che otteniamo è un tacchino. Effettivamente questa trasformazione blocca molto l'articolazione perché lui può stare solo in questa maniera. I piedi sorreggono il peso, non ha delle braccia, ma forse ha questi gomiti a punta che scimmiottano delle zampe, delle chele, quello che sia. Se lo vogliamo mettere in una pose dinamica volante, possiamo allargare il gomito o chiudere le gambe. Ops, scusate. Normalmente non succede, è la prima volta che mi succede. Forse ha tirato con troppa forza. Allunghiamo così e diciamo possiamo dargli questa posa un po' dinamica, un po' volante. Però effettivamente la modalità tacchino gambe bloccate dà qualche problema. Oppure lo possiamo mettere in stand invece che col petto completamente 90 gradi, invece di formare un angolo di 90 gradi, possiamo leggermente inclinarlo e lo mettiamo così e lo appoggiamo. Certo, è sempre quello che è. Non è molto articolato. Una modalità non official, riprende invece parte della trasformazione, quindi separa le gambe, quindi non le usa più attaccate qui al perno. Ruota le gambe in questa maniera e rimette le gambe del rapace nella stessa modalità in cui c'è il bot mod. Quindi le chiude così e le ruota di 90 gradi. Quindi lo ruotiamo, stacchiamo la gamba dalla posizione, le mettiamo come se stessimo per chiudere la modalità del robot. Quindi di questo ovviamente dobbiamo sincerarci in questi pezzi. Siano qui e lo ruote. Realmente non è neanche una versione perché poi vedremo che questa posizione è la posizione delle gambe per la trasformazione nella modalità braccio. A questo punto, come vedete, non è più fisso ma abbiamo un certo grado di movimento delle gambe del rapace. Quindi possiamo fare pose un po' più dinamiche, un po' più carine, un po' più volanti. Possiamo ad esempio provare a fare una posa così, in questa maniera, in modo che sembra che sta planando con gli artigli sopra una preda. Insomma, diciamo, guadagna leggermente in mobilità, in beast mode. Anche qua, ritorniamo, abbiamo sempre il bacino che si gira, quindi possiamo... Diciamo, ci dà quel manico in più per mettere... per posarlo leggermente meglio, insomma, quantomeno per non avere metà del bot dietro fisso. Come vedete, ha lì completamente ripiegabili, insomma, su ball joint, ne possiamo cambiare posizione, ruotarle, quindi una ampia varietà. Ok, veniamo alla modalità, come vi ho anticipato, lui fa un braccio di Dino King. A questo punto, per il braccio, anche qui, per la parte delle gambe, abbiamo due, se vogliamo, due versioni... Due versioni, una official, che secondo me è la migliore, e una fan mode. Allora, iniziamo con la parte superiore. La parte superiore, dobbiamo separare le braccia e ruotarle in questa maniera, così. Ruotiamo di 180 gradi i comiti e li chiudiamo sempre a 90 gradi. Anche qui, stessa parte, ruotiamo, se no, in questo caso, il perno sul braccio avrebbe sbattuto sul petto. Chiudiamo. E a questo punto, questi due perni, che prima erano inseriti in questo perno all'interno, devono essere allineati con la testa, in modo da formare una specie di testa a spallaccio. Quindi, ecco qui, spallaccio del bot. Ecco fatto. Ok. Ci siamo. Questo fa sì che questi due perni restino in verticale, quindi aumenta, diciamo, la modalità del bot, e il becco non è né messo dritto né messo schiacciato sul petto, quindi è una specie di via di mezzo. A quel punto, per le ali, possiamo, ufficialmente, le dobbiamo inserire all'interno di questo perno e tenere a questa maniera. Quindi, Dino King, visto dall'alto, avrà una specie di spalla con le ali, oppure, visto qui, si vede al petto. Poi qua non la vi vieta anche di chiuderle, ad esempio, in questa maniera, insomma, di dare varie interpretazioni. Sulla parte delle gambe. La parte delle gambe dobbiamo tirare leggermente il petto, la gamba in fuori, in modo da allungare il bacino. Questo è il perno di combinazione che lo dobbiamo, ovviamente, mettere, far uscire. E, semplicemente, qui dobbiamo unire le gambe e girare il piedi. Il piedi in questa maniera, quindi come, così. Rotiamo le gambe, questi li inseriamo in alto, e abbiamo il braccio con l'articolazione del gomito. Quello che potete fare, se vi piace di più, stretto, lo schiacciate leggermente giù come in bot mod e qui avete un braccio, diciamo, di qualche millimetro, un po' più corto. Però, questo credo che è da vedere quando uno proverà a combinarlo. Come vi dicevo, qui abbiamo due versioni. Una versione official, che è così, con il braccio pulito, oppure c'è una versione fanmade, che, mentre nella versione fanmade della... della modalità volatile, si mettono le gambe nella posizione come se fosse un braccio, in questa versione fanmade si mettono le braccia come se fossero delle... come se fossero nella modalità volatile ufficiale. Quindi dobbiamo incastrarle in questa maniera, così, e schiacciare le cose, in modo che, così, diciamo, gli artigli sono sulla parte esterna, e quindi sembra, diciamo, un braccio un po' più... un po' più mostruoso. Personalmente non mi piacciono molto questi... a me e Nicoli mi pare già largo di suo, quindi, per questa, mentre nella modalità rapace, preferisco molto di più la versione, diciamo, uno official, per dargli qualche articolazione in più. In questa modalità preferisco, quindi, l'official e tenere tutto... tutto schiacciato ben bene dietro. Ecco, qui, 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 ci siamo. Schiacciamo, ovviamente, anche per le ali c'è una versione fanmade, in questo caso le ali si possono staccare, si fanno piegare, si fanno collassare come in alt mod, si ruota di 90 gradi e si attaccano così. Quindi, a vostro gusto, c'è molta giocabilità sull'oggetto. Quindi la potete chiudere così e incastrarla a questa maniera. Quindi, così, diciamo, la spalla è un po' più corta. Non so, però, se questi picchi possono andare a sbattere sulle spalle del robot. E qui, diciamo, il becco del volatile a vista. Personalmente, a me piace molto la versione... la versione ali aperte. Uno, perché ricorda il G1, ma del G1 ce ne può importare fino a un certo modo. due, perché nell'ultimo universo dell'IDV effettivamente compare Mostructor. Ovviamente lui non è la versione Mostructor, però in questa versione, diciamo, le braccia hanno queste ali appese. Vediamo il pugno. Quindi prendiamo un... un piede che ci arriva con Dino Ichi. Solleviamo queste due punte e sfiliamo il pugno, semplicemente tirando. semplicemente tirando non è un'operazione facile. Fatto. Ok, mettiamo da parte il pugno. Ovviamente sono riuscito a prendere il braccio sbagliato. No, scusate, giusto. Come vedete, questo, il pugno, ha due clip che si incastrano qui dentro, semplicemente incastrando. e ecco qua. Per Mostructor abbiamo braccia articolate, dita articolate, del pugno e il pollice fisso. Quindi eccolo qua, in modalità braccio. Dimensioni, dimensioni, dicevamo, circa... ho sempre lui, quindi sono grandi come... forse è un po' più piccolo. in questo caso il braccio è un po' più piccolo di quello di un... è un po' più piccolo, sì, un po' più piccolo di quello di un... del McToys Junt. Forse perché c'è meno masso, semplicemente perché qua tutto il bot è fatto da... fa il braccio, mentre qui abbiamo il bot nella parte superiore e poi l'aggiunta di questo... di questo pugno. Quindi sì, sempre più... secondo me, la size sarà un quantron, un Junt o... insomma ragazzi, che dire? Promosso. Promosso, mi piace molto, è molto giocabile, forse è più giocabile del fratello... del fratello grande e... insomma, vediamo come prosegue il progetto perché è sicuramente un bel progetto interessante che è solo un attimo dai soliti in un miner. E che dirvi? Insomma, un saluto da Fulvio e da... Dino... Alla prossima recensione e vi aspettiamo su Transformer Italia. E... ... Grazie a tutti